Buongiorno a tutti sempre da Brescello giustamente e giustamente abbiamo comprato ho comprato una bella bottiglia di questa qua cotto d'oro che giustamente nei commenti nei commenti le persone gli amici mi dicono maestro ma prenditi il cotto d'oro che il cotto d'oro è buono e io l'ho preso stavo in offerta l'ho pagato 3,80 euro io voglio accudere perché quella bottiglia sta a 5 euro qui c'è il nostro caro Pizzo che stamattina siamo insieme con Pizzo che oggi Pizzo ci parla di politica Pizzo tu di dove sei destra o sinistra? Io sono dritto non c'è destra o sinistra dritto Che capisci politico? Io sono ignorante Macello capisci politica? No niente non parlare niente scusa E lui è proprio ignorante Io accettando lui ancora ancora Per politico devi imparare tutto devi andare a scuola e devi ascoltare Adolf Hitler che è una grande persona Io ammazzo tutte perché è forte Hitler? Hitler si Ma Hitler qui lo siamo noi Ma intanto beviamoci Inoltre facciamo un brindisi Alla doc Macello un brindisi alla doc Avvicinate Macello avvicinate Un brindisi speciale alla doc Grazie Fai un brindisi speciale Sì grazie Ciao amici bevi Bevi vino quello la quello la quello la quello la Ah non c'è questo è vuoto Quello bevi quello Quello è vuoto Quello è vuoto Ancora bevi Gesta ma della numero Fai un brindisi Un brindisi ragazzi alla doc Un giorno Beviamo Un giorno Un giorno Andiamo piano Va bene Piano piano E alla vita Devi andare piano No veloce E perché se si va veloce Pizzo cade sempre E' vero Pizzo? No non cadiamo sempre io Devi La strada Scusa Scusa Aspetta eh Alla saluta ragazzi Si Macello com'è? E' buono? E' buono E' buono bella bella La strada lunga E' pericolosa No ho sbagliato Strada piccola E' pericolosa Strada lunga E' pericolosa Quando vai Devi trovare strada Buono Non devi guardare strisce Cosa fa loro Devo dare Sinistra o destra Vai Tua strada Vai 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 Giusto Giusto Perché oggi E' tutto Pizzo Intervista Pizzo però togiti quei occhiali da sole Fatti vedere dal pubblico Cacco Il pubblico ti ama Ti vuole vedere Negli occhi O John Lennon No Lui e John Lennon Sono Bruce Lee Bene ragazzi Io vi auguro una bella giornata a tutti Una buona giornata Perché stasera Stamattina c'è una bellissima giornata Noi siamo sempre qui nel parco Nel verde Perché a noi piace stare anche nel verde E Vi facciamo salutare dal grandissimo Ehm Marcello Ciao amici Pizzo Buona giornata Saluto tutti Chi c'è un problema Devi chiamarmi O O O Il maestro Bene ragazzi Vi auguro una buona giornata a tutti Ok Tu vuoi andare Australia America Devi chiamarmi Con il maestro Ok A LA GAR AY